Reggo qua un'autentica chicca, siamo all'interno della pasticceria Mantero di Via Cantore con Stefania Mantero questa è una chicca perché questa è una targa, è stata consegnata fresca fresca da pochi giorni al SIGEP di Rimini ma ne sento un po' il peso perché sono in quattro al mondo quest'anno ad averla, che cosa è successo? lunedì scorso in occasione della riunione alla fiera internazionale della pasticceria che si svolge ogni anno a Rimini è stata insegnata a papà questa onoreficenza alla carriera per essere riuscita a portare a livello internazionale la pasticceria italiana è stata un'emozione immensa, un orgoglio incredibile e aumenta la responsabilità a portare avanti questa passione, questa dedizione in tutto questo impero che è stato creato dai miei genitori ecco hai ribadito non senza emozione, quindi hai ribadito che vai alla carriera e anche al futuro ovviamente 51 anni perché siamo nel 2023 di pasticceria, lo hai ribadito con orgoglio, tanta tanta qualità, storia e poi anche le novità però insomma quattro nel mondo e alto il già altissimo nome della pasticceria italiana sì ribadisco un impegno sempre più importante, sempre più pesante ma portato avanti con rispetto, umiltà e tanta tanta voglia di tenere alto il nome che mamma e papà hanno portato a conoscenza di tanti assolutamente, pesa però, pesa, va bene eccola qua, insomma quattro nel mondo è veramente meritatissimo qui alla pasticceria Mantera